quando è la prima volta che siamo usciti assieme proprio usciti direi alla ski sprint del 2009 quando è il nostro anniversario 27 dicembre qual è la mia attrice preferita non ho la più palida idea il mio film preferito tutti i programmi di maria di filippi cosa pensi quando mi vedi in gara dai amorino vai forte mi pensi quando gareggi certo che ti penso sempre qual è il gesto scaramantico che fai più spesso non ne ho uno il momento più bello quando vinci saper di aver vinto qual è il mio pregio numero uno difficile dai che è sempre sorridente perché usi sempre il cappellino che sto malissimo con la facetta che regalo mi fai il mio prossimo compleanno ha fatto tante proposte non hai accettato neanche una alla fine se l'ha fatto da solo dove vi porti in vacanza la prossima estate sicuramente non le maldive cosa faremo da grandi la mamma e papà e tu cosa dici faremo da grandi mamma la mamma e papà